Massimo Chirotto, oggi San Fiore e Castello di Roganzuolo sono trepitanti con il pubblico che ha gustato la prima prova del campionato italiano di ciclocross. Il team relay, una staffetta entusiasmante. Sì, entusiasmante perché si è conclusa all'ultimo giro ed è proprio questo il bello della staffetta, perché c'è un gruppo di ragazzi e ragazze che corrono per la squadra, non a titolo individuale. È stato veramente un bello spot, oggi il campionato italiano che è il fiore all'occhiello per la federazione ciclistica italiana, domani ci sarà ancora un altro giorno importantissimo, che si chiuderà un po' la stagione agonistica se vogliamo, poi ci sono le gare internazionali con i campionati del mondo. Direi che oggi giornata di sole, tanto pubblico, un percorso veramente tecnico che può insegnare ai nostri ragazzi e ragazzi. Da qua si inizia per poi arrivare, chissà, professionisti, specialisti del settore. Grazie. 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 Grazie.